Babbo attento con le mani Vieni più vicino Beh, quello lì può essere venenoso Ma cosa? Ma questo è un porcino, non vedi? È vero che c'è la roba più grossa della cappella Guardati com'è grosso! Questo è... Guarda, guarda, è altamente maturo che si è... Si è rotto lì, guarda Fabio, fabbio la foto con la destra qui Io non lo so Ma c'è grosso! Guarda, l'abbiamo tolto adesso Guarda, è un porcino Questa qui Siamo un porcino Sì, sono un po' di famiglia E ce n'è un altro Però questo Anche questo è un lamellare Quindi non lo conosco niente Ma questo Sembra Non lo so Sì, va c'è il gambone, è un porcino Sì, però Bisoglio un porcino Sì, è un po' di famiglia No Questo Vuoi fare i google? No, questo è un lamellare No, niente Attenzione ragazzi Oggi è più di funghi C'è caso che qualcosa di buono troviamo Questa qui sembra una viscela Non mi ricordo Oh, 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 cos'è questo? Chi è? Chi è? Guarda Va Aspetta Ah, sì, sì, sì Sono quelle che è dentro Si bucano Guardalo questo Questi Guardalo questo No, no, questo è qui Oh, 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 oh Questo è un lamellare No, lamellare niente Qui abbiamo altri due Qui due lamellari Io non li conosco Altra qua Signora Sì, sono due Sì, sono due Questi Questi No Questi Ne hai No, sono lamellari Lo riconosco Guardate che grosso Qual è il porcino? Questo È un porcino Sì, quando io mi sono aperto la mano Guardate È un porcino È gigante Vieni più vicino Guardate come è grosso È maturo Guarda come si è spezzato No, babbo Stai attento con le mani Babbo, attento con le mani Vieni più vicino Beh, quello lì può essere venenoso Ma cosa? Ma questo è un porcino Lo vedi? È vero che c'è la roba più grosso della cappella Guardate come è grosso Questo è qua Abbiamo fatto un bottino Guarda, è altamente maturo Che si è rotto lì Guarda Non so che vero Fammi una foto con la bestia qui Io lo lascio Guarda L'abbiamo tolto adesso È un porcino È la prima volta che abbiamo fatto una roba Era talmente maturo qua Che si era spaccato Guarda che roba Guarda che roba Ecco Questa è la manite Questa è la manite Questa è bellosissima Vedi sopra C'è il puntino Vedi? Guarda C'è l'anello sotto Guarda Quando c'è l'anello sotto Ragazzi attenzione Non mettete le mani Eh Guarda 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.